Quanto dura un'emozione, un istante, qualche giorno, le più belle anche cent'anni? Questa è la storia di Baci Perugina, nato da un'intuizione di Luisa Spagnoli, dal 1922 dà forma e voce alle nostre emozioni. Un successo travolgente che dal cuore di Perugia, nella storica fabbrica di San Sisto, sbarcherà nel mercato arabo e oltreoceano. Baci si rinnova, diventa dei giovani, cresce fino alle stelle. Baci innova, ancora e ancora, per continuare a raccontare le infinite sfumature delle emozioni più autentiche. Eppure resta l'inimitabile cioccolatino di sempre, che ci fa assaporare il piacere di vivere e condividere le emozioni all'italiana. È la storia di Baci Perugina, è la nostra storia.